benvenuti amici di padel channel sono Gianmarco Toccini maestro nazionale e oggi scendiamo in campo per provare la Orwen Kerala V2 racchetta a lacrima gomma eva black ponte in kevlar e piatto in fibra di vetro misto questa racchetta ha un bilanciamento medio alto ed è dedicata prettamente a giocatori di medio alto livello la racchetta la possiamo scegliere da pesi che vanno da 350 fino a un massimo di 380 85 che è diciamo più pesa la racchetta e più è adatta a un pubblico e a un giocatore di fascia alta per quel che riguarda le mie sensazioni questa racchetta è ottima sia per controllo quindi una fase difensiva come difesa sia della parete che dal basso è ottima diventa molto maneggevole soprattutto nell'attacco quando si deve spingere la palla e magari giocare molto più col polso grazie a tutti